Ciao a tutti a questo nuovo video per Youtube Oggi ragazzi dedicherò un video a Alessandro Finazzi, il mio cugino E Gli dedicherò un mondo su Minecraft Una bella casa, un bel castello Lui mi ha chiesto E ora ragazzi Vi farò vedere come glielo farò Anche lui è un Youtuber come me E ragazzi iscrivetevi anche al mio canale Gabbel Piastra Ragazzi faccio video di tutto Chiedetemi che ne so Assassin's Creed 3 World Eh si Worldcraft Allora mondo da dedicare Mondo Dediche Dediche Mondo dediche Creativa Mondo super piatto Perché? Crea nome Allora ragazzi io faccio video di tutti i tipi Minecraft in sopravvivenza Ragazzi inizierò una nuova serie domani Vi farò un video al giorno Due Faccio video di Clash of Clans Anche Faccio video di tutto Allora Acqua Bien amore io devo accendere però e accendi vai mamma hai spinto il mio e muovi accendi il mio come faccio? scusate ragazzi ora si dovrebbe riaccendere ragazzi porco cani eccolo qui ragazzi scusate per questa interruzione e si continua 54 grammi di pozzia va bene vai un'emergenza lampante nel mondo il 30% del cibo si spreca per un valore commerciale di 20 miliardi di euro e uno strepo complessivo di 2060 miliardi più o meno il debito per 5 italiani qui ragazzi lo faccio di tre strada il castello perchè sarà molto rosso oh jay ax grande jay ax ma che stanno a fama faccio l'altro del primo mangio uh bello ma ci porti eh la logica stanno facendo adesso costex po' dovrebbero togliere e noiosissimo mamma lo sai che sto facendo un video per youtube vero ma lo sai che ti devi levare in mezzo eh no come no prima faccio il castello verale amore prendi baracca e burro perché vai di là eh no baracca e babbo oh no baracca e babbo mamma perchè fanno il concerto del primo maggio? perchè è una ricordenza la fanno sempre la festa dei lavoratori ogni anno appunto è la festa dei lavoratori non si dovrebbe lavorare mamma ma quelli sono artisti e canso mamma al mio canale ci sono già 2 iscritti tu sul tuo telefono ci sono scritto io capito? poi vabbè Ale poi l'ho detto alla classe non mi sposto aspetta e ora e ora iniziamo il castello berale explain 0 1 e quando lì oh no 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 oh lì c'erano le tasse dei villager neanche le avevamo viste oh lì c'erano le tasse dei villager neanche le avevamo viste oh lì c'erano le tasse dei villager tu 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 ecco ragazzi poi farò un tutorial come costruire un castello anche io respiro problemi? mamma perché la chiamano la terra dei fuochi? oh tu non fai niente però e che c'erano? e che c'erano? e che c'erano? e che c'erano? che c'erano? la flora vaginale la flora vaginale? che cos'è la flora vaginale mamma? sembra interessante è interessante è interessante dai fai sentire la tua voce ai diamanti di youtube dai spiegaci un po' che cos'è questa flora vaginale così lo sentono pure per chi non lo sapesse su youtube ma non ti manco io ma sei femmina? come fai non sapendo? scherzo ragazzi da un'infezione che ti viene dentro la vagina ragazzi non sa che cos'è la flora vaginale vado a chiederla a loro una sull'aurelia che punto mamma ma scherzo ma scherzo ho scritto oh no ci stanno i dementi e vedi che ci stanno i dementi? si dice bolla poi dice a me che uso un linguaggio scurrile Dementi non è un linguaggio scurrile eh? Dementi non è un linguaggio scurrile vuol dire uno che è un po' auto si è un po' cioè non è sano demente tipo questo guardi qui tu madre tu madre guardi tu madre ah magari more qui 1,2,3,4 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 un innosterezzo Allora 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 Oddio bevo scena Mamma lo conosci il bebu cane? Ma non conosci il bebu cane? Come non conosci il bebu cane? Eh mamma Oh si è più antica degli antichi Oh 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 Stanno al polo sud lì ma Eh mamma Il posto dove piacere va abitare a te Vedete voi amanti di youtube a mia madre piace abitare al palone Appoggio il ciclo Mamma io parlo perfettamente la loro lingua vedi C'è l'appoggi E questi sono cinque Questi sono uno due tre quattro cinque Andiamo molto sui larghi Uno due tre quattro 1,2,3,4 Mamma questo qui è il mio mondo speciale delle dediche Alessandro ha voluto che gli dedicavo un video Poi mamma gli posso far vedere la tua casa Dopo domani giochi a Minecraft con me Ti insegno Anche è facile Imparerai in pochi minuti Ragazzi si sta facendo notte Mamma vuoi che ti dedico anche a te un castello C'è la mia casa Ah è vero Vabbè Vabbè me lo copio domani Perché non so sicuramente se esco Se qualcuno esce esco Eccolo qui Ale se guarderei questo video ti insegnerò poi a farlo Scrivimi nei commenti Alessandro se vuoi sapere come si fa Tant'è facile te l'ho fatto pure nel mondo Ah ragazzi non mi ero presentato Io sono Sono Gabriele Lei è Come ti chiami? Eh? Tu Vabbè lei è Cristina È un'introduttrice dei video Vero ma È un caso a parte che fai video con me Mamma tra gli autori ci metto anche Cristina Garassino Bene? No Sì Perché? Perché? Uff baba Oh guarda mi fai dire babbutte eh Pensa se Matias guarda sto video Eh non ci meno Ah mamma con la mia schiena Oh mamma con la mia schiena